pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati continua il discorso eucaristico di gesù e potremmo dire che ne arriviamo al culmine se ricordate siamo partiti dalla moltiplicazione dei pani abbiamo poi scoperto che questo pane moltiplicato era figura di cristo stesso che si è definito pane della vita oggi sentiamo gesù che arriva a dire io sono il pane vivo disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo ecco miei cari abbiamo l'occasione di approfondire qualcosa del sublime mistero dell'eucaristia proviamo a darci due punti primo il senso dell'eucaristia partiamo dall'aspra reazione dei giudei come può costui darci la sua carne da mangiare è chiaro loro sono fermi ad una interpretazione letterale materiale delle parole di gesù eppure questa domanda nasconde un significato profondo come è possibile che ci dia se stesso da mangiare come è possibile che un uomo che normalmente è un fascio di bisogni di necessità dia se stesso come cibo come è possibile che uno si consegni fino a tal punto sì noi affettuosamente sbaciucchiando un piccolino gli diciamo ti mangerei ma arrivare a farsi mangiare cioè a vivere con una disponibilità totale gratuita beh è ben altra cosa vedete miei cari noi siamo abituati a pensare che nella vita tutto va meritato conquistato guardingamente trattenuto fatichiamo tremendamente a consegnarci non riusciamo a donarci fino in fondo sempre comunque tendiamo ad autoconservarci spesso emerge un latente sospetto che non valga la pena consegnarci abbiamo come un freno a mano tirato nella nostra interiorità peraltro in natura vige la legge del più forte nel mondo anche nelle relazioni umane spesso si tende a pensare che il più forte è colui che divora il più debole lo vediamo anche attorno a noi si fanno le guerre per dominare l'altro per inglobare l'altro per divorare i beni dell'altro secondo tale prospettiva dio stesso dovrebbe essere quello che diciamo così ci divora cioè che chiede che pretende che opprime che ci punisce quando non siamo all'altezza possiamo allora leggere così questa domanda come può costui darci la sua carne da mangiare come può arrivare a tanto ecco gesù può arrivare a tanto proprio perché tanto grande è il suo amore le parole di gesù e non sono la farneticazione di un povero illuso ma la rivelazione di un dio innamorato di noi disponibile all'inverosimile che si consegna totalmente fino ad annullarsi fino a farsi cibo desideroso che la sua vita eterna pulsi nella nostra vita mortale che la sua gioia viva in noi che il suo amore arda e alimenti il nostro cuore come ha ricordato il papa nell'eucaristia si comunica l'amore del signore per noi un amore così grande che ci nutre con se stesso un amore gratuito sempre a disposizione di ogni persona affamata e bisognosa di rigenerare le proprie forze perciò gesù ha ancora detto chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno quanto è importante scolpire nel nostro cuore queste parole che non sono frutto di un'umana invenzione o di una logica deduzione sono divina rivelazione la profezia svelata nell'eucaristia quando riceviamo l'eucaristia facciamo comunione con la vita stessa di dio alimentiamo in noi la sua presenza che vita eterna e pienezza di vita pegno della risurrezione futura per questo i padri della chiesa chiamavano l'eucaristia il farmaco dell'immortalità che bella definizione vero pensate se in farmacia vendessero un farmaco per non morire mai che file sterminate forse ci sarebbero pur di non attraversare sorella morte ci accontenteremmo di vivere un'eternità su questa terra tra malattie guerre discordie e chissà quanti soldi costerebbe o saremmo disposti a dare ecco miei cari l'eucaristia è l'unico farmaco per l'immortalità quello vero non costa nulla è gratuito è amore infinito chiede solo un po di spazio nel cuore e di voler corrispondere a quest'amore e non ci dà qualche giorno in più su questa terra ci dà la vita eterna la vita stessa di dio che pulsa in noi per questo come dicevano i primi cristiani senza l'eucaristia non possiamo vivere per questo il prossimo santo carlo acutis chiamava l'eucaristia l'autostrada per il cielo e ancora miei cari facciamo un passino avanti gesù ha detto la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda ecco l'eucaristia non è apparenza non è mero ricordo non è semplicemente un simbolo è la presenza reale e amorevole del signore gesù è vero cibo è vera bevanda dell'anima ecco il santo curato d'arse faceva un esempio molto bello faceva notare come il buon dio per il nostro corpo abbia provveduto ogni sorta di cibo carne frutta vegetali ma non trovò nulla che fosse sufficientemente degno per la nostra anima allora cosa fece donò se stesso come cibo per noi anima mia quanto sei grande se l'unico cibo per te è dio stesso e in questo vangelo egli sembra quasi dirci eccomi prendimi mangiami accoglimi sono per te tutto questo ci aiuta a guarire l'idea distorta di un dio che viene per togliere per chiedere per esigere ma cosa potrebbe toglierci colui che ha creato le galassie al quale appartengono i cieli e la terra e cosa avremmo noi da dare a dio dio viene per dare e non per darci delle cosette da quattro soldi viene per donarci se stesso viene per farci diventare come lui e se chiede qualcosa chiede solo un po di fiducia per poter salvare la nostra vita e come un povero bussa alla porta del nostro cuore chiedendo solo un po di spazio per farci ricchi del suo amore non a caso san francesco d'assisi amareggiato diceva l'amore è poco amato e ora brevemente passiamo al secondo punto il fine dell'eucaristia gesù continuando ha detto chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui come il padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il padre così anche colui che mangia me vivrà per me ecco l'eucaristia mira a farci vivere in comunione con cristo e muove il nostro cuore a vivere per lui a fare la sua volontà a essere dono per gli altri è bellissimo dio non si limita a dirci dall'esterno ama ma prima di tutto ama noi e si dona a noi infonde in noi il suo amore e dal di dentro ci muove ad amare insieme a lui a noi sta a esercitare la volontà per vivere secondo la carità e diventare diciamo così piccole eucaristie viventi pane spezzato per gli altri perciò come ci ha ricordato papa francesco l'eucaristia ci plasma perché non viviamo solo per noi stessi ma per il signore e per i fratelli e le sorelle nutrendoci di questo cibo possiamo entrare in piena sintonia con cristo con i suoi sentimenti con i suoi comportamenti questo è tanto importante andare a messa e comunicarsi perché ricevere la comunione e ricevere gesù vivo che ci trasforma dentro e ci prepara per il cielo la felicità e l'eternità della vita dipendono dalla nostra capacità di rendere fecondo l'amore evangelico che riceviamo nell'eucaristia cari fratelli e sorelle abbiamo ripercorso le parole di gesù cercando di riscoprire qualcosina del senso e del fine dell'eucaristia che il signore possa aiutarci a ridestare in noi lo stupore per la sua dolce presenza in questo sacramento d'amore gustando sempre più in essa la presenza viva sulla terra di nostro signore per diventare sempre più intimamente e profondamente una cosa sola con lui possano aiutarci le bellissime parole che sant'agostino sentì in una sorta di visione nella quale gesù gli disse io sono il cibo dei forti cresci e mi avrai tu non trasformerai me in te come il cibo del corpo ma sarai tu a essere trasformato in me che il vi benedica pace e bene a tutti